Scusate, questa è la mia pausa pranzo tra una sala prova e l'altra di Ballando con le stelle. Volevo ringraziarvi perché siete tantissimi a intervenire sull'home page ufficiale e manderemo sempre tante clip, foto di Ballando con le stelle e di altri lavori. Grazie, siete tantissimi, vi ringrazio. Ritorno al mio panino. No, stai a mangiare solo, stai a mangiare. Ah, ma sei tu il famoso, fai vedere il giro di... Il famoso bomber, il numero 10, di che squadra? Afflair Tea! Sicuramente. Vorrei il mio panino, devo sempre condividerlo con il power. No, 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 non è vero, non è vero. Siccome ha lavorato tutto il giorno, quindi goditi questo momento. Com'è? Sei un bomber. il Maradona ha preso sto numero da lui alla fine non lo sa nessuno il numero 10 parte da Flyerty ciao ragazzi